Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Cari amici, bentornati all'appuntamento con lo meteo di TV6 L'alta pressione sub-tropicale torna ad inforzarsi su tutto Mediterraneo e su tutta Italia Regalerà un finale di settimana davvero caldo per il periodo con temperature da piena estate Specie al nord e sul lato tirrenico Per quanto riguarda questo venerdì cieli sereni su tutta Italia Qualche temporale sull'arco alpino, temperature fino a 33 gradi in penura padana Per quanto riguarda l'Abruzzo una giornata molto stabile Tardo primaverile con cieli sereni ovunque Qualche addensamento innocuo nelle aree interne Quindi l'alta pressione impedirà la formazione di temporali o rovesci pomeridiani Le temperature massime in aumento Massime tra i 24 e i 27 gradi Minime tra i 9 e i 14 gradi I venti deboli a regime di brezza Il caldo diverrà via via più intenso per passare dei giorni Raggiungerà l'apice nel fine settimana Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni